Sono tre i punti fissati ieri pomeriggio nel corso di un incontro con le associazioni che si occupano di volontariato fortemente evoluto dal Centro Servizi Regionale. Il pieno sostegno al legame fra il mondo del volontariato e quello della scuola per irrobustire il quale sono stati stanziati 90.000 euro. La partecipazione del mondo del volontariato all'iniziativa Bavisela Onlus che consentirà alle associazioni di iscriversi alla gara con una quota di favore a fronte di una visibilità lungo tutta la settimana della Kermess. Quindi anche grazie a Telequattro è stata analizzata la voglia di solidarietà che da qualche tempo sembra aver contagiato positivamente i triestini. Il mondo del volontariato si sta interrogando sulla opportunità di proseguire su questa strada, quella di sensibilizzare i cittadini alla solidarietà e proseguire con l'aiuto alle persone che in questo momento sono in difficoltà. Le iniziative dei telespettatori, sottolinea Gregori, stanno infatti esercitando una benefica sorta di effetto traino. Moltissime associazioni si sono offerte, hanno indicato persone bisognose, ma altrettante si sono proprio offerte per donare ciò che possono donare per aiutare gli altri. Oggi purtroppo la notizia di cronaca nera... Sì. E'торовatto. E' günstента. Grazie a tutti